Un saluto a tutti da la relazione di Rossini TV e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il Vallefoglia Magazine, il settimanale d'approfondimento della città di Vallefoglia. Prima di cominciare, come di consueto, vi ricordo i nostri contatti alle quali potete inviare le vostre segnalazioni. Qua in sovraimpressione trovate il numero di WhatsApp oppure la mail di redazione Vallefoglia, chiocciolarossinitv.it. Vi ricordo che potete inviarci foto, video, messaggi audio per quanto riguarda WhatsApp oppure semplici messaggi di testo. Ma iniziamo subito con la prima notizia perché a causa di un lieve aumento dei contagi, il comune di Vallefoglia, così come è successo per Montellabate, Tavuglia e Acqualagna nella nostra provincia, è stato dichiarato in zona arancione rafforzata da mercoledì 21 e ad almeno fino a domenica 25 aprile, in attesa poi di nuove disposizioni. Il sindaco di Vallefoglia Palmirocchielli ha commentato così questa mossa fatta dalla regione Marche. Sentiamo. Una ordinanza tardiva, almeno di un mese, noi avevamo un picco massimo di 140 contagi, un minimo di 43, oggi siamo 83, proprio sul filo 250-059, quindi entriamo proprio per caso. e ovviamente già la zona arancione prevede che non ci possono essere spostamenti nemmeno dal proprio comune se non per andare a fare la spesa per mangiare, per ragioni di salute e per ragioni di lavoro. Il problema è avere grande attenzione al rispetto delle regole, noi ci siamo raccomandati quotidianamente ai cittadini di non fare assolutamente assembramenti, di mantenere la mascherina, di mantenere le distanze di due metri, almeno un metro e di fare l'igienizzazione. Poi noi siamo un territorio dove vengono da tanti altri territori a lavorare nelle fabbriche, ai supermercati, alla casa della salute che riguarda tutti i territori, quindi è evidente che è più facile avere un maggior contagio. Quindi dal 21 al 25 bisognerebbe rispettare, bisogna rispettare rigorosamente le regole per ritornare ad avere un ulteriore calo di contagi e soprattutto per andare a fare tutti i vaccini. Io andrò giovedì mattina a fare il vaccino e quanto mai è necessario fare tutti i vaccini. Noi abbiamo proposto anche la mensa della zona industriale per fare i vaccini tutti qua, tutti questi comuni confinanti, evitando gli spostamenti su Pesaro che creano problemi di mobilità, soprattutto alle persone più grandi eccetera. Se in questi giorni dal 21 al 26 le persone rispettano rigorosamente le regole fondamentali e quindi stanno il più possibile a casa, si spostano solo per lavoro, per l'alimentazione, per ragioni di salute, noi dal 26 potremo avere una situazione di tranquillità e di normalità. Intendiamoci la tranquillità, la normalità quando tutti avranno fatti i vaccini. Siccome i vaccini ancora li hanno fatti solo quelli che hanno oltre 70 anni e non tutti, bisogna che se la regione ci ascolta e ci metta a disposizione la struttura per fare un punto vaccini a Vallefoglia, noi avremmo quanto prima tutta la comunità vaccinata e quindi avremo la possibilità di ritornare in una situazione di normalità. Quindi rispettare le regole è fondamentale. E così come è successo per le comuni di Vallefoglia, anche quello di Tavoglia si è detto non è soddisfatto della decisione presa dalla Regione Marche, visto che è stato preso come riferimento un periodo non ritenuto specifico. Il sindaco Francesca Paolucci ha però dichiarato e tenuto a precisare che i contagi continuano a diminuire e che la situazione è completamente sotto controllo. Allora, il Comune sta andando abbastanza bene, sicuramente non è uno dei periodi più difficili che abbiamo avuto. Già in pochissimi giorni siamo passati da 53-54 contagiati a 47 mi pare oggi. Quindi la tendenza è quella chiaramente al calo. L'idea e la decisione che ha preso la Regione non ci ha dato molta soddisfazione perché intanto è stata presa un'unica settimana di riferimento, mentre nelle settimane precedenti noi avevamo già molti casi in calo. In più non l'abbiamo presa benissimo perché quando l'Italia sta parlando di riaprire, quindi con un grande senso di contentezza direi, proprio nella semplicità dei termini, a noi ci viene chiesto un sacrificio. Un sacrificio poi per cosa? Perché un Comune come il nostro, delle nostre dimensioni, non porta a un risultato importante a livello di numeri regionali e quindi un po' ci siamo sentiti di dover fare un sacrificio noi quando in realtà in passato ci sono stati molti momenti ben peggiori anche nelle altre province e delle Marche. Ad ogni modo siamo sempre stati una comunità che rispetta le regole e quindi lo faremo anche questa volta, anzi colgo anche il suggerimento del Prefetto, proprio stasera avrò un incontro con Protezione Civile e Carabinieri in Congedo chiedendogli di darci una mano nella gestione dei parchi perché comunque tutto rimane aperto, tutte le attività produttive, economiche sono aperte, l'attività motoria vicino a casa si può fare e quindi si può portare anche un bambino al parco, ai giochi, stando sempre nel rispetto delle regole, quindi mascherina, distanziamento e tutta quell'igiene di cui si è parlato in questo anno e oltre che va sempre bene. E sempre a proposito di emergenza Covid, il Comune di Vallefoglia in questa settimana ha ribadito ancora una volta la necessità di un punto vaccini all'interno del territorio comunale. Il Sindaco Cucchielli ha comunicato di aver inoltrato all'Assessore alla Sanità della Regione Marche Salta Martini e agli enti competenti una lettera dove si comunica la disponibilità di un immobile di proprietà comunale per essere allestita a un nuovo punto di vaccinazione. L'immobile in riferimento si trova nella zona industriale di Talacchio in via di Vittorio numero 2, adibito a mensa interaziendale ed è a momento libero. Lo stabile, interamente dislocato alle piano terra, si presenta con un'ampia superficie e all'esterno è circondato da un vasto parcheggio, capace di contenere centinaia di auto. Inoltre si trova al di fuori delle centro abitate e non crea problemi alla circolazione ed evita il crearsi di pericolosi assembramenti. La struttura è posizionata in un punto centrale del territorio ed è facilmente raggiungibile da parte degli abitanti dei comuni di Mitrofi della vallata delle Foglia. La scelta, va detto, è stata condivisa non solo dall'Aggiunta Comunale di Vallefoglia ma anche dall'Aggiunta dell'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo. E nel frattempo, dalle 26 aprile, salvo eventuali prolungamenti della zona arancione rafforzata, anche a Vallefoglia potranno riaprire per l'orario di cena le attività di ristorazione. Due nodi però restano cruciali. Il primo, quello delle coprifuoco alle ore 22, rimasto per ora confermato, mentre la seconda situazione riguarda il fatto che sarà possibile cenare solamente all'aperto. Sentiamo quali sono i pareri di alcuni ristoratori in merito a questo tema. Sono stati mesi molto difficili innanzitutto per la liquidità. Noi imprese abbiamo dei costi fissi che non siamo riusciti ovviamente nemmeno minimamente ad alleggerire. Tra l'altro anche la formula del sostegno è stata una formula molto molto imprecisa ed era tra l'altro dovuta a delle differenze medie di fatturato anno sull'anno quando in realtà la perdita grossa, le aziende come la mia, la ristorazione, hanno perso la maggior parte dei soldi nei mesi di gennaio e febbraio 2021 che andavano riferiti probabilmente al 2020 invece che fare quel meccanismo che ha ingabbiato un sacco di persone in più ma ha ridotto drasticamente i ristori, dando un lieve sostegno proprio ma neanche minimo. Di conseguenza è stata molto difficile dopodiché io personalmente ho cercato di usare il tempo per risistemare alcune cose all'esterno. Sai la nostra attività tra l'altro non ha una grande affinità con la sport in quanto è data dal convivio delle persone, dalla presenza di amici che bevono davanti a una birra, mangiano qualcosa insieme. venendo a mancare questo meccanismo viene a mancare proprio l'ossatura del nostro tipo di attività. Il coprifuoco alle 22 con una somministrazione che finisce alla medesima ora mi dà l'impressione di trovare del grandissimo traffico veloce per raggiungere i domicili nella maniera più breve possibile perché poi se ti ferma una pattuglia alle 22.15 e ti alza ti eleva un verbale da 400 euro anche l'uscita diventa un attimino da pensare. Non credo che siano sempre delle questioni inerenti proprio al contagio, al contenimento del medesimo in quanto abbiamo visto che quando i bar sono stati chiusi, i ristoranti sono stati chiusi, nessuna flessione si è palesata immediatamente, anzi i contagi sono continuati a crescere. Si è fatto poco secondo me sul controllo, non dico domiciliare, ma quelle riunioni un pochino azzardate come sono successe nei paesi vicini dove per feste di lauree si sono ammalate 70 persone in un'occasione. Quelle sono sfuggite molte cose di quelle, capisco la difficoltà di controllare una persona dentro la sua casa. Un'ultimissima cosa, cosa pensi del fatto delle riaperture? Nel frattempo solamente all'aperto, tu sei fortunato se ti metti anche nei panni di un altro ristoratore cosa diresti? Sarei molto frustrato come tutte le volte che non sono ricaduto in qualsiasi forma di possibilità di ristoro o di possibilità di aprire, in quanto ristorante non puoi aprire ma se hai dei contratti con le aziende puoi fare da mensa aziendale quindi apri, cioè non siamo rientrati anche noi in un sacco di cose e questa cosa è frustrante per tutti. A volte quando sento i colleghi che parlano in televisione della propria realtà mi viene quasi male perché nessuno di noi soffre più degli altri, siamo tutti in estrema difficoltà e dovremmo essere più che una categoria ma un gruppo di persone che fa sentire la propria voce in maniera corretta e legale ovviamente. Il deficit è molto grosso, in più noi come posti non li abbiamo, sicuramente dovremmo star chiusi, abbiamo un gazebo all'esterno che si apre tutto intorno ma avendo una copertura sul tetto non sappiamo come viene valutato e in più non è questo che ci fa risolvere il problema, anche perché la stagione comunque sia non è ancora iniziata, perciò le serate ancora sono fredde e penso che non ci sia tanta gente che abbia voglia di venire a mangiare all'aperto, mangiare deve essere un piacere, se uno deve soffrire di freddo per mangiare penso che non ci siano tante adesioni, io non vedo questo il modo per risolvere il problema. Come fai a gestire una cosa del genere? Dovresti lavorare con l'orologio, mangiare con l'orologio e sinceramente se dovessi essere io non mi piace, insomma mangiare io dico sempre deve rimanere un piacere, gustarsi il mangiare con i suoi tempi e questo secondo me non è il modo di risolvere il problema. Noi continueremo con l'asporto e le consigli di domicilio, sperando che la situazione si risolvi il prima possibile e che queste stupidaggini di far mangiare all'aperto finiscono perché per me sono solo stupidaggini, stupidaggini create dal governo che non risolvono sicuramente il nostro problema. E intanto continuano le varie segnalazioni da parte dei cittadini di Vallefoglia, soprattutto sui social riguardo all'abbandono di rifiuti di qualsiasi tipo all'interno del territorio. Questa settimana è stato fatto presente tramite una foto di come la fermata dell'autobus a bottega, nonostante la presenza di un piccolo bidone a pochi metri di distanza, qualche incivile ha lasciato sia sulla panchina che in terra cartacce e mascherine chirurgiche usate. Un'altra segnalazione di rifiuti riguarda invece la zona delle Monte di Colbordolo, dove alcuni cittadini hanno sottolineato come ormai da diverso tempo che rifiuti di ogni tipo, come ad esempio divani, calcinacci, bottiglie e cavi, sono presenti senza che mai nessuno si sia interessato per la rimozione. E a proposito proprio di rifiuti, il Consiglio Comunale di Montellabate nello scorso fine settimana ha votato in maniera favorevole ad una mozione riguardante questo delicato tema. Il neo assessore comunale all'ambiente Pierluigi Ferraro si spiega nel dettaglio come l'applicazione della tariffa puntuale e il sistema di raccolta di rifiuti porta a porta siano agli obiettivi principali da conseguire. Per quanto riguarda noi, come ricordavi, ci siamo concentrati in particolar modo sulla tariffa puntuale, poiché siamo convinti, oramai da tempo, ma è arrivato il momento che i cittadini paghino i rifiuti per quanto ne producono, a differenza invece, ricordo di come oggi, che in realtà la tassa di rifiuti si paga e sui metri quadrati dell'abitazione e anche sul numero di persone che vivono quell'abitazione. Questa scelta di attuare la tariffa puntuale, di portare la tariffa puntuale, non è una scelta, questo va detto, non è una cosa che può prendere il singolo comune, visto, ricordo, che la gestione dei rifiuti a livello provinciale. Per cui, insomma, con questa mozione votata, ricordo all'unanimità nel Consiglio Comunale di Montelabate, a parte l'astensione della Lega, e questo ci sarebbe da prendere una parentesi, comunque da mandato all'assessore all'ambiente, in questo caso al sottoscritto, di andare nell'assemblea dei sindaci e proporre a tutti i punti cardine di questa proposta. Fra i punti cardine, oltre chiaramente al primo punto che è quello della tariffa puntuale, questo lo si può fare a nostro avviso modificando il sistema di raccolta. Convinti che questo sistema di raccolta dei rifiuti proposto da marchi multiservizi non è quello ideale per applicare la tariffa puntuale, abbiamo individuato altri due sistemi perché si possa applicare la tariffa puntuale. Il primo è quello più famoso, quello che ormai tante amministrazioni utilizzano, è quello del porta a porta spinto. L'altro sistema è quello invece che è un sistema moderno che stanno cominciando ad utilizzare ora alcune amministrazioni, è quello simile a quello che abbiamo ora, cioè il sistema stradale, ma in questo caso i cassonetti non sono di libero accesso come lo sono ora, ma sono chiusi. Si arriva al cassonetto con una tessera, che è chiaramente dove è indicata la propria utenza e lì insomma si dovrà segnare che tipo di rifiuto stai conferendo e appunto il peso di quel rifiuto. E solo in questo modo si può veramente applicare la tariffa puntuale nel vero senso della parola. Un altro punto della mozione e cosa che appunto dovrò portare come dicevo prima nell'assemblea dei sindaci, un altro punto, il terzo punto riguarda proprio l'implementazione degli impianti. Il Movimento 5 Stelle è stato colui che ha contribuito, che ha scritto con l'ex assessore consigliere regionale Pier Giorgio Fabri, la legge regionale sui compostori di prossimità. Il Movimento 5 Stelle a livello provinciale della provincia di Peso Rubino ha fatto un documento programmatico per quanto riguarda la gestione dell'organico e quello che si dice appunto anche nel terzo punto della proposta è che a nostro avviso sì al biodigestore industriale ma deve essere correttamente dimensionato, non come ora che invece riteniamo che sia un dimensionamento, una grandezza sproporzionata. Perché? Perché noi siamo convinti che a fianco del composto della biodigestore industriale dobbiamo affiancare appunto dei compostori di prossimità. E dopo il servizio andato in onda due settimane fa in emerito alla segnalazione dell'associazione Enale Pesca riguardante l'inquinamento delle aste fluviali delle fiume Foglia, il sindaco di Vallefoglia arriva a dito come è un imperativo dell'amministrazione comunale quello di puntare sulla qualità delle acque e che verranno aumentate le richieste di controlli da parte degli enti competenti. Vediamo il servizio. Noi abbiamo in atto una grande operazione ecologica ambientale insieme all'atto, insieme a Marche Multisivizi, insieme alla provincia nella programmazione. È previsto il completamento prima dell'estate del raddoppio del depuratore di Montecchio con tutti i collettori per la bonifica del fiume NAPS e del Foglia. È previsto nel contratto di fiume un altro depuratore in quel di Schietti, quindi depuratore di Schietti, Montecchio di Vallefoglia e di Borgeria, tre depuratori per depurare tutta l'asta fluviale. Consideriamo pure che questa è una vallata tutta industriale, per fortuna mantiene ancora una buona presenza delle aziende agricole e quindi anche l'agroalimentare e quindi bisogna puntare molto sulla depurazione, sulla qualità delle acque, sul controllo rigoroso da parte dei Marche Multisivizi, degli organi della Polizia, dello Stato, della Polizia locale, perché i fiumi possono essere una risorsa e non un problema. Il Comune sta puntando molto sull'abbellimento del territorio del fiume Foglia, anche appunto non solo col contratto di fiume, ma anche con il progetto della ciclovia. Il Comune sta puntando molto sulla mobilità sostenibile. Abbiamo giovedì una riunione il pomeriggio proprio sulla riorganizzazione del sistema dei trasporti con AMI e cercheremo appunto di ridurre l'inquinamento atmosferico, di ridurre gli incidenti e di puntare molto sull'ambiente, sulla qualità, sulla sostenibilità e su una mobilità sempre più sostenibile e la depurazione dell'asta fluviale, dell'asta dell'apse del Foglia sono fondamentali per la qualità dello sviluppo di questo territorio. E ora concludiamo parlando di sport. È stata una settimana di successi per la Megabox Vallefoglia, reduce da due vittorie consecutive. La squadra di coach Fabio Bonafede ha prima vinto contro l'Acqua e Sapone Roma domenica, rifacendosi della sconfitta subita qualche giorno prima. In una delle migliori partite della stagione, la Megabox ha sconfitto la capolista con un secco 3-0 in poco più di un'ora di gioco. Nelle turno infrasettimanali, invece, la formazione bianco-verde si è poi ripetuta vincendo contro Pinerolo al tie-break. Inizialmente avanti per 2-7 a 0, la Megabox si è fatta raggiungere sulle 2-2, ma poi la squadra di Bonafede è rimasta fredda e lucida nei momenti chiave ed è riuscita a portarsi a casa la partita. Con questa vittoria, la formazione di Vallefoglia, che deve recuperare una partita, ha agguantato Macerata al terzo posto in classifica con 52 punti. E siamo giunti alla conclusione di questa nuova edizione delle Vallefoglia Magazine. Io vi ricordo che questa puntata la potete rivedere online, sul nostro sito, sulla nostra pagina Facebook, sul canale YouTube, ma soprattutto la grandissima novità di Rossini TV, perché da poco più di una settimana è disponibile la nostra nuova app, scaricabile sia sugli store Apple che sugli store Android, e anche lì potete rivedere tutta la nostra programmazione, ma non solo, potete inviare segnalazioni e appunto vivere ancora di più il mondo di Rossini TV. Continuate quindi a seguirci, io vi ringrazio, vi rinnovo l'appuntamento con il Vallefoglia Magazine a venerdì prossimo, il 30 di aprile, e vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.